Benvenuti alla Serpara, siamo felicissimi che ha funzionato tutto e che questa giornata caldissima ci ha regalato una sera tranquilla e fresca. Siamo felicissimi di iniziare con questo concerto di Maurizio Barbetti e Francesco Cuoghi che faranno delle sculture fatte di onde sonore qui nel giardino. Buon divertimento e ci vediamo dopo. Buon divertimento e ci vediamo dopo. Buon divertimento e ci vediamo. 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 Buon divertimento. Buon divertimento e ci vediamo. Buon divertimento e ci vediamo.